In Catalogna vince la linea anti-Madrid, gli unionisti di Ciudadanos sono il primo partito, ma senza maggioranza, per Pijemó il risultato inequivocabile. I deputati confermano la fiducia al governo sulla manovra economica, oggi approvazione definitiva alla Camera, domani il voto finale al Senato. ONU contro Trump ha approvato la risoluzione che condanna il riconoscimento di Gerusalemme, capitale di Israele. Il premier Netanyahu è netto o no alla decisione. A Roma l'albero di Natale di Piazza Venezia è diventato un caso. La sindaca Raggi, che ha sbagliato, pagherà, ma i problemi sono altri. Meno regali nei negozi e più su internet per Natale gli italiani prediligono la rete per gli acquisti, ma secondo Confesercenti le vendite sono in calo rispetto al 2016. All'ospedale San Filippo Neri di Roma apre una clinica per il sorriso. La Smile House sarà un polo di riferimento per la cura delle patologie maxilofacciali in tutto il centro Italia. Ottant'anni senza Marconi, un futuro tutto digitale. La radio è un mezzo che sa reinventarsi senza perdere la sua potenza. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del Tg di Lumsa News. In apertura la Catalogna che sceglie gli indipendentisti. Il popolo catalano è tornato infatti alle urne per l'elezione del nuovo Parlamento dopo la destituzione di Carles Puigdemont. Il blocco indipendentista ha conquistato 70 seggi. Il servizio è di Luisa Vittoria Amen. È la prima volta che una forza unionista trionfa come primo partito in Catalogna. Ciudadanos è il partito più votato di una Catalogna che ieri è tornata alle urne per chiedere l'elezione di un nuovo Parlamento dopo la destituzione di Carles Puigdemont. Quasi un paradosso per un partito nato circa dieci anni fa in Catalogna proprio per contrastare l'indipendentismo. Ma il vero trionfo è quello del blocco indipendentista che conquista 70 seggi e l'ingresso nella nuova Generalitat. Altro risultato record è quello legato all'affluenza. Ha votato l'82% dei cittadini catalani, più di 5 milioni e mezzo degli aventi diritto. Per ora le misure applicate con l'articolo 155 resteranno in vigore fino alla nomina di un nuovo presidente, fa sapere Madrid. Festeggia Carles Puigdemont in esilio forzato in Belgio. Da Bruxelles l'ex premier catalano commenta la Repubblica Catalana ha vinto, lo Stato spagnolo è stato sconfitto. Manovra verso il voto finale. Passa la fiducia alla Camera con 296 voti favorevoli. L'approvazione definitiva è prevista per oggi alle 12.30 e poi la legge passerà al Senato. La maggioranza punta ad approvare la manovra prima di Natale. Superate le difficoltà delle ultime ore. Valerio Toma. La manovra economica si prepara al Via Libera di Montecitorio dopo aver ottenuto la fiducia della Camera sul maxi emendamento. L'esame del testo è ripreso stamane. Il voto finale è previsto invece per le 12.30. Dopo l'ok la legge di bilancio concluderà l'iter parlamentare con un esame sprint al Senato. L'obiettivo della maggioranza è approvare la manovra prima di Natale nonostante le difficoltà delle ultime ore. Ieri il testo è stato rimandato in commissione per essere corretto. Le opposizioni lamentavano alcuni problemi di coperture risolti poi con qualche ritocco. È stata la manovra più faticosa degli ultimi 30 anni. Un assalto alla diligenza. Così Francesco Boccia, relatore del testo, ha definito il percorso della legge. Il decreto 1000 proroghe è stato l'ultimo treno utile prima delle elezioni politiche, ha spiegato il deputato PD. Tra i punti salienti della finanziaria ci sono gli interventi per il cuneo fiscale e il bonus industria 4.0. Mentre sul fronte fiscale arriva la web tax e la fattura obbligatoria per l'e-commerce. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha bocciato la decisione di Donald Trump di spostare l'ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme con l'implicito riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Solo nove i voti favorevoli. Il servizio è di Siria Guerrieri. L'Assemblea delle Nazioni Unite ha sancito ieri una storica sconfitta per l'amministrazione Trump. Il Palazzo di Vetro a New York ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione di condanna del riconoscimento unilaterale di Gerusalemme come capitale di Israele da parte degli Stati Uniti. Inutili le minacce più o meno velate dell'ambasciatrice americana all'ONU, Nikki Haley. Prenderemo i nomi di chi vota a favore, aveva avvertito la diplomatica statunitense nei giorni precedenti. Nonostante le pressioni della Casa Bianca, sono 128 i paesi che hanno votato sì dall'Italia, schierata a favore insieme ad altri 22 paesi europei, ad esclusione delle nazioni del gruppo di Visegrad, fino alla Russia e alla Cina. Nove i voti contrari, Israele e Stati Uniti in testa, seguiti da alcune nazioni del Centro America come Guatemala e Honduras. Il riconoscimento di Gerusalemme capitale stabilisce la risoluzione approvata, seppur con voto non vincolante, è una violazione del diritto internazionale. Il leggo adesso un'ultima ora fornita dalla redazione che parla di Gerusalemme come capitale. È intervenuta l'autorità palestinese Abu Mazen e ha dichiarato stamani a Parigi che non accetta nessun piano di pace presentato dagli Stati Uniti. Sono state appunto queste le parole per il conflitto israelo-palestinese in atto e sempre Abu Mazen sottolinea che gli USA sono screditati dopo il loro riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele. E torniamo in Italia per parlare di Spelacchio, che si rifà il trucco, ma forse non basta qualche luce di Natale in più a trasformare l'albero di Piazza Venezia in un folto e possente abete. Dopo giorni di silenzio scende in campo anche la sindaca Virginia Raggi per rassicurare i cittadini romani. È stata infatti avviata un'indagine interna e saranno chiesti i danni. Christian Dallens e Fabio Simonelli. Appena appena li perdi, quando perde il pelo è finito. Spelacchio non ce l'ha fatta, l'albero di Natale di Piazza Venezia a Roma, così ribattezzato per il suo scarso verde, sta morendo. Ma sull'autopsia le versioni non concordano. Causa del decesso, la mancanza di radici. La magnifica comunità della Valle di Fiemme, che lo ha fornito, sostiene che è prassi reciderle prima del trasporto. Il vero problema, fanno sapere, è stata la scarsa cura nello slegare l'albero una volta arrivato a Roma. Il Dipartimento Ambiente del Comune dà invece la colpa al peso degli addobbi e dichiara che comprarlo con le radici sarebbe costato troppo. In questi mesi l'abete era diventato protagonista sui social, tra chi lo disprezzava senza pietà e chi invece aveva mostrato tenerezza nei suoi confronti. Io lo trovo bellissimo, proprio perché è diverso da tutti gli altri. Sembra già morto. Si poteva fare meglio. Con quei soldi si poteva fare meglio. Io la prima volta lo vedo dal vivo. Bello non è. Però fa pure un po' tenerezza, insomma. Spelacchio è stato anche denunciato alla Corte dei Conti. Noi come Associazione dei Consumatori abbiamo ritenuto obbligatorio a tutela dei cittadini depositare un esposto alla Corte dei Conti al fine di capire che fine abbiano fatto gli oltre 46 mila euro spesi di soldi pubblici dai cittadini per comprare un albero che è stato già acquistato, pare morto. A volte la sfiga supera i confini del Natale, supera tutto. Hanno piantato un albero che poverino stava male. Allora noi avevamo documentato quanto fosse spelacchiato. E confesercenti a lanciare l'allarme. Sarà un Natale sottotono per le famiglie italiane. Nelle prime settimane di dicembre la vendita nei negozi infatti è crollata del 20% rispetto all'anno precedente. Resta stabile invece il settore alimentare. Ce ne parlano nel loro servizio William Valentini e Davide Di Bello. Sarà un Natale sottotono nell'anno della ripresa economica. E confesercenti a lanciare l'allarme. Nelle prime settimane di dicembre il volume di affari nei negozi italiani è crollato del 20% rispetto all'anno scorso. I dati generali sono in calo. L'elettronica va malissimo. Ma vanno male anche i settori tradizionali come l'alimentare, che in questi giorni ha registrato un calo del 6% rispetto a dicembre dell'anno scorso. Principali indiziati sono il commercio online e il Black Friday, che il 24 novembre ha registrato un volume di spesa pari a quello del 24 dicembre scorso. Siamo andati a avviare il corso nel cuore dello shopping romano a chiedere a clienti e commercianti come stanno andando gli affari. Ora, secondo me, anche se siamo in un periodo di ripresa, il commercio in generale è sceso abbastanza. E l'ho notato anche in prima persona perché mi sono ritrovato anche con meno budget a disposizione per fare regali. I prezzi sicuramente sono aumentati anche in alcuni negozi e sicuramente online è molto più conveniente. Io prediligo comunque comprare online, ci sono più prodotti possibili, sono i prezzi più abbordabili a mio parere. Sicuramente online è tutta un'altra cosa. Quindi un Natale, tutta l'insegna dell'e-commerce e dello shopping online? Beh sì. E sul caso Ilva arriva anche l'appello di Gentiloni a Emiliano. Mi rivolgo al presidente Emiliano e al sindaco Melucci facendo appello alle loro responsabilità. Il governo c'è, c'è la disponibilità al confronto sulle questioni. L'Italia e la Puglia hanno bisogno di leale collaborazione. E al San Filippo Neri di Roma si è inaugurata la Smile House o Casa del Sorriso, un centro specialistico per la cura dei pazienti con malformazioni maxilofacciali. Il progetto, già attivo a Milano dal 2011, ora potrà contare su una struttura all'avanguardia anche nella capitale. Sempre per aiutare i bambini nati con malformazioni al volto. Il servizio è di Alessio Foderi e Giulia Turco. Un sorriso alla volta. Questo è lo spirito che ha portato all'apertura della Smile House all'ospedale San Filippo Neri di Roma. Ovvero un centro multispecialistico per la cura dei pazienti con malformazioni congenite, cranio maxilofacciali. Lo scorso 15 dicembre si è dato via gli interventi su 5 pazienti, prima ancora della fine dei lavori di ristrutturazione dei locali. Dopo la Smile House di Milano, attiva dal 2011 con più di 1000 interventi chirurgici effettuati, anche la capitale potrà contare su una struttura all'avanguardia per bambini nati con malformazioni al volto. Non solo, il centro di Roma sarà un polo di riferimento per il centro sud Italia, che testimonia la stretta collaborazione tra il servizio sanitario pubblico e il mondo no profit. È addirittura possibile individuare queste patologie dal momento gestazionale, come spiega il dottor Domenico Scoppellitti, vice direttore del progetto. Noi partiamo dal percorso nascita, nel senso che noi ci occupiamo fondamentalmente di intercettare anche i bambini durante la gravidanza. Adesso con la diagnosi prenatale è possibile evidenziare molte di queste patologie già in epoca di gravidanza gestazionale. La fondazione Peresso Smile non si ferma però all'Italia, come ricorda il presidente Versace. Arrivano i bambini in Italia, vengono fatti arrivare in Italia e vengono operati nel centro dove ci sono tutte le assistenze dovute, perché quando andiamo in missione abbiamo sezioni di ospedali, abbiamo il minimo indispensabile per operare i casi normali. Un'unione che fa la forza per consentire ai bambini di sorridere senza dimenticare le famiglie alle spalle. Le storie di Simon, di Costanza e tanti altri bambini che passeranno adesso dal San Filippo Neri non possono che essere lo stimolo per un buon lavoro della Smile House. Questo piccolo intoppo alla nascita non gli ha creato poi più di tanto dei problemi. Loro ci hanno preso per mano e ci hanno accompagnato in questo percorso che ancora non è finito. La radio è la vittoria della parola sulle immagini. Si è aperto così il convegno per ricordare gli 80 anni dalla morte di Guglielmo Marconi e per celebrare gli 85 anni di Radio Vaticana con un focus sul presente e sul futuro della radio italiana. Vediamo il servizio. Il sonno pontefice Pio X inaugurerà la stazione radio dello Stato della città del Vaticano. Con queste parole Guglielmo Marconi inaugurava le trasmissioni della Radio Vaticana il 12 febbraio del 1931. Un convegno dal titolo Interferenze, il futuro della radio digitale, è ricordato gli 80 anni dalla scomparsa del grande inventore. Tra gli interventi, importante è la testimonianza della figlia dell'inventore della radio, Elettra Marconi. Mio padre ha creato, ha fatto questa invenzione senza fili di comunicazione per salvare le vite umane, per dare la possibilità alle persone che partivano e che per mesi, per mare, per terra, che non avevano notizie delle famiglie, invece potevano comunicare. Tra gli ospiti anche Fabio Volo, speaker di Radio DJ e Riccardo Cucchi, storica voce di tutto il calcio, minuto per minuto. Il ricordo bello che ho dalla radio è quel weekend dove non ho mai dormito, l'ansia di accendere il microfono e di buttarmi dentro un mondo, un universo, un salto nel buio infinito. Diciamo da quel momento lì è nato il mio grande amore. Io credo che la radio abbia per sua natura la capacità di resistere per il semplice fatto che uno spettatore che possa sedersi 24 ore al giorno su un divano davanti alla televisione non esisterà mai. E questo era l'ultimo servizio di oggi. Vi ricordiamo che la nostra informazione prosegue anche sul nostro sito. Grazie per averci seguito e buone feste. Grazie per aver guardato il video.